Ciao a tutti da JGR Studios, il nostro canale dedicato alle lezioni, recensioni e tutorial sull'audio recording. Vi ricordo che i nostri corsi ufficiali certificati Presonus Studio One sugli altri software e sulle tecniche di audio mixing e mastering sono disponibili sul sito ProAudioLearning.com. Non dimenticate inoltre di iscrivervi al canale cliccando sul pulsante sotto a destra e di attivare la campanella per ricevere notifica dei nuovi video caricati. Tutti i link sono in descrizione. Ciao a tutti, una delle domande che mi vengono poste da decenni riguardano l'export master real-time contro l'esportazione offline, ossia c'è differenza tra l'export real-time di un bounce, di un mix rispetto alla stessa esportazione fatta in offline. Molti si sono cimentati in questo genere di spiegazione, evidenziando la differenza ma non sapendo cosa la provoca né come aggirarla, perché se due bounce suonano effettivamente diversi c'è un motivo, anzi più di un motivo e in alcuni casi non dovrebbe proprio esserci. Le spiegazioni che ho sentito finora sono spesso imprecise, così questa settimana ho deciso di fare un video più approfondito ma in compagnia di coloro che scrivono le DO e che scrivono i plug-in. In questo caso ne ho parlato con Tom di Presonus, con Giancarlo di Acustica Audio e con Stefano Daino di DSP4, che alla domanda perché l'export suona diverso mi hanno tutti risposto non dovrebbe suonare diverso a meno che. Ed ora andremo a scoprire quella meno che, che cosa significa veramente. Perché come vedremo la risposta esatta è l'export real-time è diverso dall'export offline, perché effettivamente qualcuno ha deciso così e non perché la DO applica delle funzioni diverse. La DO in tutto questo c'entra poco o niente. Sto lavorando su un brano acustico, quindi utilizzeremo questo per poter confrontare i diversi bounce. Un brano che ovviamente è registrato chitarra e microfono, c'è soltanto appunto qualche plug-in di Studio One e un riverbero. Abbiamo spesso appurato che nella fase di export real-time o offline ci siano delle differenze, questo è noto, ma siamo sicuri al 100% che siano diversi? In realtà la risposta è no, non ci deve essere differenza. Come tanti però hanno notato esiste e allora è perché esiste? Così come sono concepite le DO, tutte le DO, utilizzando una serie di Stamps ed esportando il master in real-time o in offline non vi è alcuna differenza. Carichiamo una song che contenga per esempio all'interno solo gli Stamps, quindi non questa qui e vedremo che adesso andando in play e andando ad esportare la song, quindi abbiamo un click mobile nella tempo map e gli Stamps presi dalla song che abbiamo visto prima. Quindi facendo adesso un export real-time e importando la traccia sempre all'interno mantenendo ovviamente bitrate e risoluzione del brano in questione, andremo adesso ad esportare in tempo reale la sessione di Stamps, quindi la DO con soltanto gli Stamps. Ricordiamoci di utilizzare USE REALTIME PROCESSING e facciamo OK. L'export è terminato e abbiamo importato la traccia all'interno di Studio One. Mettiamola in mute ed ora andiamo ad esportare in offline lo stesso brano. Quindi diamo EXPORT MIXDOWN, togliamo lo USE REALTIME PROCESSING e facciamo OK. In questo caso sarà molto più veloce come vediamo e otteniamo una traccia esportata offline. Per vedere se queste due tracce suonano nello stesso modo sarà sufficiente invertire la polarità di una delle tracce. In questo caso nel mixer di Studio One selezioniamo gli input controls, mettiamo in solo queste due tracce e invertiamo la fase di una delle due. Andando in play dovrebbero suonare diverse come abbiamo visto in tantissimi altri tutorial, ma questa volta non impiegando alcun tipo di plugin e quindi esportando semplicemente gli Stamps come vediamo si annullano. Quindi vuol dire che la nostra DO sarà in grado di esportare in REALTIME e in OFFLINE lo stesso mix di Stamps senza introdurre alcun tipo di artefatto all'interno. Questo ci porta ovviamente a scoprire che ciò accade perché i plugin non sono coinvolti nell'export. Una DO programmata come si deve dovrebbe però anche in presenza di plugin dare lo stesso identico risultato perché i plugin per quanto sofisticati sono algoritmi e devono rispettare delle condizioni specifiche come appunto la comunicazione della latenza, della propria latenza verso la DO e la gestione del buffer appunto all'interno della DO. Quello che faremo nel prossimo esperimento sarà esportare in REALTIME e in OFFLINE una song che utilizza esclusivamente plugin stock, in questo caso i plugin stock di Studio One. Andiamo a vedere. In questa song come vediamo ho utilizzato esclusivamente compressori e equalizzatori di Presonus oltre al Fat Channel che noi tutti conosciamo e che abbiamo già visto in altri tutorial e il riverbero open air ovvero il riverbero risposta di impulso di Studio One a cui poi ho inserito un compressore in sidechain per essere pilotato appunto dalle tracce di voce, un equalizzatore per togliere un po' di risonanze verso i bassi cosa che potevo fare anche all'interno di open air qui abbiamo un EQ e poi sul master inserire appunto un EQ e un limiter per riavere un po' più di gain in uscita. Quindi abbiamo una song standard con diverse tracce audio che finiscono nei bass. Tutti i bass poi finiscono all'interno di un bass supplementare chiamato master 2 che utilizzo appunto per separare spesso alcuni strumenti ma in questo caso tutti gli strumenti vanno lì dentro ad eccezione della voce che va direttamente nel main out per non essere coinvolto nel master bass. Poi vedremo le tracce che ho qui al lato e che vedete sono tutte tracce degli esperimenti che andremo ad ascoltare. Per il nostro primo esperimento esportiamo la nostra song in real time quindi andiamo su song export mix down e la chiameremo test master real time studio one user real time processing e iniziamo ad esportarla. Facciamo poi la stessa identica operazione esportando questa volta sempre la stessa song utilizzando però il processing offline quindi togliamo la spunta facciamo ok ed esportiamo la traccia verrà ovviamente calcolato tutto l'utilizzo dei plugin all'interno della do e avremo una traccia esportata di conseguenza. Le tracce così esportate le ho inserite come abbiamo visto nell'esercizio precedente qui all'interno della do quindi abbiamo l'offline e il real time di questa sessione. Adesso mettendole in solo e invertendo di polarità una delle due tracce dovrei poter annullare completamente tutto come fatto in precedenza ed anche in questo caso come vediamo il risultato è lo stesso identico quindi anche in presenza dei plugin una do che è stata calibrata per lavorare in maniera professionale non dovrebbe non deve creare differenze nelle operazioni di null test tra un export real time e un export offline. Ma cosa accade quando la nostra song è piena di plugin di terze parti? In questo caso l'introduzione di plugin di terze parti comporta una quantità di variabili incredibile in grado di generare anche differenze tra due export real time e due export offline quindi non soltanto tra real time contro offline ma anche tra real time contro un secondo real time e un offline contro un secondo offline perché queste differenze genereranno un export variabile ogni volta che verrà effettuato. Ma perché accade questo? Parlando con i programmatori abbiamo capito che la dovrebbe riuscire a calcolare perfettamente i vari buffer e le latenze introdotte da tutti i plugin anche quelli di terze parti evitando questo genere di incongruenze e se invece risultano presenti c'è sicuramente qualche bug disastroso all'interno della do oppure il problema è imputabile al lavoro dei plugin di terze parti. Proviamo infatti ora un export real time e offline con vari plugin come ad esempio l'inserimento di psp, fabfilter, brainworks, vice, acustica audio eccetera eccetera. Eccoci in una song con tutti i plugin di terze parti in questo caso sto utilizzando psp 2445 quindi due riverberi sui canali delle voci un room verb di studio one e il classico bass presser su diversi canali oltre all'ultramarine che avete visto che avete visto spesso nei miei video che è un bellissimo equalizzatore e un fabfilter saturn sul master un brainworks bxl v2 il mio preferito vice di s1 e il vice mm1. Andiamo ora ad esportare la song in questo caso in real time e in offline. Andiamo sempre su file song export mix down scegliamo real time e lo esportiamo indicando appunto che abbiamo utilizzato tutti i plugin a disposizione. Come possiamo ascoltare questa volta viene introdotto del suono suicide infatti lo possiamo anche vedere mandando tutte le tracce reference che ho creato all'interno di un bass spectrum meter e analizzando appunto il primo export. Come vediamo qualcosa sta passando quindi i due bounce sono effettivamente diversi non tantissimo però un po' e abbiamo appunto dei suoni riconoscibili sui meno 80 db poco udibili ovviamente però riconoscibili a meno che non entra poi la voce con i relativi riverberi questo vuol dire che nonostante tutti i plugin vengano calcolati allo stesso modo l'introduzione l'utilizzo di alcuni riverberi condiziona effettivamente l'export real time contro offline ma questo vuol dire che anche se noi esportiamo due identici export offline quindi un offline e poi subito dopo un altro avremo lo stesso identico risultato questo perché come vedremo il riverbero comporta degli algoritmi randomici quindi vediamo poi come sfruttare questa situazione per il momento se io spengo il riverbero che sto utilizzando ed il riesporto le due tracce andando sempre adesso su export mix down togliendo il real time e quindi esportando offline le stesse identiche tracce e una in real time quindi facendo la prova che ho fatto finora ma spegnendo il riverbero che entra nelle voci partiamo direttamente dalla sezione dove iniziavano le voci vedremo che non accade assolutamente nulla quindi il fattore principale di questa variazione questi diversi queste diversità tra bounce real time e bounce offline sono imputabili molto molto spesso al riverbero parlando con gian carlo di acustica audio e con stefano daino di dsp4 è venuto fuori che i plugin possono essere in grado di generare delle operazioni quindi randomiche emulando anche il comportamento di oscillazione delle alimentazioni dentro i circuiti reali il fire up dei trasformatori e tanto altro ancora ma che questo è un sistema di algoritmi applicabili arbitrariamente dal plugin stesso nel momento in cui il plugin decide che verranno introdotte delle fasi di non linearità al suo interno può farlo da un punto qualsiasi quindi randomico casuale della sua emulazione oppure da un punto certo il che genererà la casualità nello stesso modo ogni volta questo fattore può essere applicato o no in base alla decisione della software house che ha programmato il plugin perché può decidere di far introdurre delle operazioni randomiche solo se l'export è riconosciuto come real time o non farlo quando invece riconosciuto come offline perché decidere di avere questi due comportamenti diversi potrebbe essere riferito ad un discorso di continuità ricercata magari quando si fa un bounce di una traccia instruments o il print di un canale senza influenzare il mix in modo da avere un print sempre uguale e lasciare le fasi randomiche solo negli export di real time questo però avviene con alcuni plugin di acustica audio che attivando la sezione pre introducono modulazioni random nell'esecuzione gli altri plugin che sicuramente introducono come abbiamo visto modulazioni random sono proprio i riverberi questo perché riescono grazie a questo sistema ad emulare il comportamento casuale di alcune riflessioni lo fece la lexicon per prima creando degli ambienti virtuali in modo da renderli più naturali possibile i plugin di riverbero quindi potrebbero torniamo nella song di test i plugin di riverbero quindi potrebbero non rispettare il concetto di linearità quando il riverbero viene generato da un algoritmo questa discrepanza negli export è presente quindi anche quando vengono eseguiti sia gli export all offline sia gli export in real time o viceversa e non soltanto real time contro offline ma anche offline contro un altro offline non accade questo invece quando il plugin di riverbero è basato sulle risposte di impulso sono quindi i riverberi detti a convoluzione facciamo un export ora guardiamo cosa accade con il null test quando utilizziamo dei plugin a convoluzione e dei plugin basati su generazione di algoritmi che contengono modulazioni randomiche facciamo l'export appunto utilizzando room verb e il risultato è questo questi sono due export offline quindi non real time contro offline ma offline contro offline come vediamo anche in questo caso ci sono delle discrepanze delle differenze tra i due export offline proviamo adesso lo stesso tipo di export dove ho sostituito il room verb con il pro r di fab filter come vediamo il comportamento è esattamente lo stesso e lo stesso accade con il riverbero di eventide poi ogni riverbero avrà una profondità ed un suono proprio ma questo vi dimostra che anche gli export offline sono differenti tra di loro quando vengono coinvolti questi effetti lo stesso accade anche con il 2445 di dpsp e ovviamente anche con il breverb di over loud sentiamo lo stesso export cambiandolo con spark e notiamo che spark non ha questo comportamento quindi spark non utilizza delle modulazioni randomiche quindi ci garantisce che i due export offline e quindi anche l'export real time l'export e l'export offline siano identici lo stesso accade con il riverbero della native instrument come vediamo non accade nulla nel spectrometer né nel facemeter e anche con il tsar di soft tube come anche utilizzando nebula di acustica audio perché sono tutti riverberi a convoluzione quindi a risposta di impulso lo stesso che accadeva all'inizio quando abbiamo fatto il test utilizzando open air di presonus ecco che ad ogni export in cui l'effetto viene influenzato quindi da algoritmi randomici il nostro mix sarà differente mentre quando impiegheremo riverberi a risposta di impulso verrà sempre identico la prossima domanda sarà quindi quando usare l'uno o l'altro perché bisognerebbe accettare questa differenza o invece quando bisognerebbe avere un riferimento identico in fase di export queste domande generano risposte contrastanti potrebbe quindi essere necessario avere sempre una risposta lineare da parte dei plugin o potremmo non aver bisogno di questa linearità per accontentarci di un caos più randomico quando per noi non è importante ritoccare il mix facendo cut and paste da altri mix magari scegliendo il ritornello di un mix la strofa di un altro mix perché a volte può capitare anche questo se non ci occorre dover fare questo genere di operazioni possiamo infischiarcene delle differenze nell'export real time offline che coinvolgono questo genere di plugin ma quando invece ad esempio facciamo del sound design o the film scoring dove capita che un riverbero faccia parte integrante di un suono magari di pads o code di riverbero complesse sugli strumenti non possiamo permetterci di avere un export sempre diverso ogni volta perché poi potrebbe capitare che in fase di editing o montaggio del film tagliando parti della traccia ci ritroveremo dei click per problemi di fase dati e generati da alcuni plugin di emulazione analogica o di riverbero appunto sapendo tutto ciò ora siamo in grado di decidere quale sia il miglior approccio al nostro mix e scegliere quale plugin utilizzare per poter avere sempre un export corretto sia real time sia offline tutto questo ragionamento fa parte di esperienze che ho accumulato in studi negli anni passati al fianco di fonici famosi che già negli anni 90 creavano stems dalle tracce per fissare su hard disk la traccia degli effetti e poter poi editare la song e le tracce stems soprattutto per i live show o degli show televisivi in questo modo il comportamento dei riverberi esterni e soprattutto delle console veniva fissato nel tempo e reso più utile per future lavorazioni un riverbero che crea queste differenze ricordiamocelo potrebbe generare grossi problemi di fase quando esportiamo diversi strumenti che lo utilizzano così da creare export di stems che non suoneranno più come il mix originale esportato in stereo questo accade ad esempio appunto come abbiamo visto con room verb di studio one con fab filter pro r psp 2445 eventide breverb e non accade quando invece come abbiamo visto utilizziamo i riverberi a convoluzione come ad esempio open air nativi strumenti rc 280 zardi soft tube nebula di acustica audio o tutti gli altri riverberi a risposta di impulso spero che questo video vi sia stato utile vi aspetto ai miei seminari al corso professionale presso il mio studio nei corsi online sul sito pro audio learning.com affronteremo i vostri mix insieme e li finalizzeremo nella fase di mastering per gli iscritti ai corsi sono disponibili inoltre plugin e librerie gratuite oltre a nuovi video esclusivi ogni mese continuate a seguirmi su facebook youtube e music off non dimenticate inoltre di supportare queste lezioni gratuite attraverso il canale patreon che trovate in descrizione se vi è piaciuto cliccate subscribe e attivate la campanella per il momento è tutto ciao a presto ciao a presto ciao a presto